eccomi qui per spiegare il funzionamento della siringa temporizzata procuriamoci una siringa da 10 della pic diametro ago 0,70 x 30 soluzione fisiologica soluzione somatostatina polvere somatostatina ago a farfalla microflot diametro 0,25 prendiamo la siringa aspiriamo la soluzione di somatostatina versiamola all'interno della polvere effettuiamo questo movimento aspiriamo la somatostatina continuiamo a riempire la siringa con fisiologica sino a 10 togliamo l'ago inseriamo l'ago a farfalla assicuriamoci che non ci sia l'area all'interno del tubicino pigiamo lo stantuffo e facciamo salire sul medicinale fino ad avere una goccia di somatostatina alla fine disinfettiamo una parte di pancia oppure braccio oppure coscia è indicata la pancia la mia mano e la pancia disinfettiamo prendiamo l'ago e lo inseriamo all'interno successivamente lo teniamo fermo con del cerotto solleviamo la levetta giro la siringa per mostrare inseriamo spostiamo il carellino contro lo stantuffo inseriamo il coperchio in questo modo chiudiamo schiacciamo il tasto partenza prima ancora dobbiamo assicurarci l'impostazione delle ore a 10 a 8 o a 12 seguendo la prescrizione del medico inseriamo